ragazzi vi ricordo per chi volesse sostenere il canale prima di affrontare la la seconda parte di quello che ho detto stamattina perché ci c'è un personaggio sta dicendo delle delle assurdità clamorose sull'inter eh potete tranquillamente sostenere questo canale gratis iscrivendovi al canale basta un clic ed attivando tutte le campanelline allora voi lo sapete a me Zhang non non è mai stato simpatico io non mi rimangio quello che ho sempre detto non mi sono mai sentito rappresentato però fino a prova contraria quello che si sapeva quello che scriveva il Corriere della Sera ok nella pagina proprio Torino ci sono gli articoli andatelo a vedere e che il PM aveva chiesto gli arresti per Agnelli quindi in Italia era stato scritto il PM aveva chiesto gli arresti eh per Agnelli il GIP rifiutò l'arresto ma sarebbe stato pronto ad accogliere la richiesta di arresto del PM qualora monosciglio non si fosse fatto da parte perché lui ha detto perché monosciglio cosa fa sotto consiglio dei suoi legali lo hanno anche scritto ok mi faccio da parte mi tolgo di mezzo ecco perché il PM poi dopo alla fine ha ricettato l'arresto ma io ripeto che a me non mi sta simpatico per nulla di Zhang arrestato in Italia non l'ho letto da nessuna parte nessun giornale lo ha scritto fino a prova contraria hanno scritto di Agnelli che volevano arrestare non di Zhang poi da lì a dire che con i prestiti non si può più andare avanti prestito paga eh debito paga debito tutto quello che ti pare ma anche la Juve tutti gli aumenti di abitare che ha fatto la Juve non le ha fatti solo tramite la famiglia Agnelli ma ne ha fatti tanti con le banche quindi di cosa stai ragionando l'Inter alla sua controllante che gestisce il flusso del cassa quando ci sono quando c'è bisogno di soldi l'Inter pesca dalla controllante e da tutto quello e comunque eh da tutti i profitti e ne trai tra stadio sponsor e via discorrendo quindi di cosa stai ragionando e a te se ti strizzano i capelli ci secondisce l'insalata ma di cosa ragioni l'hanno radiato non l'hanno radiato non lo so o mi è capitato per sbaglio di vedere un video di questo qui che non sa cosa dice te pensa che uno uno della Juve che parla di arbitri con quelli del lì ma robe da 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 pazzi proprio perché lo volevano arrestare false prestazioni falso in bilancio e false comunicazioni al mercato la storia di chi stipendi ne hanno l'esame di Suarez ne hanno combinate di tutti i colori questi due calciatori condannati e squalificati per doping e calcio scommesse non ce l'ha all'Inter ce l'avete voi capito due calciatori condannati per doping e calcio scommesse e ce l'avevi voi e non ci sanno noi non ci sanno noi ce l'avete voi voi ce l'avete quindi di cosa stiamo ragionando era il vostro presidente stavano arrestando quello io guardo non lo chiamo nemmeno mio presidente ma quello dell'Inter dove dove l'hanno scritto che in cina non si vede da sei sette mesi sono tutte ipotesi perché ti ho sempre detto non lo so dove i cinesi ma chi è che chi chi sa cosa sta cosa sta facendo zango non lo sa nessuno è eletto arrestato era chi lo dice chi lo dice mentre il vostro lo scrivevano da tutte le parti e come appenato poco a telare monosciglio eh così anche quelli di Napoli non rompete i coglioni cioè vedere tifosi in Napoli e fanno così a noi è uno schifo voi o sì capito tra un po' diventate amici della Juve anche voi come come sono diventati quelli di Milan ma che schifo è questo ma che schifo è ma poi a Perugia se questi qui perdono lo scudetto ma è colpa nostra ma cosa mi rompi oglioni se in quel fu di Perugia per persero lo scudetto è colpa nostra ma poi noi siamo talmente tanto ladri che nell'anno in cui abbiamo servito su un bastoglio d'argento lo scudetto ai Milan Giroud fa fallo su Sanchez poi dopo dopo viene fuori il gol addirittura l'arbitro non ferma il gioco nemmeno per un colpo alla testa dove lì l'arbitro e e anche il VAR sono obbligati a fermare il gioco perché poi da quell'azione lì viene fuori il gol siamo talmente ladri noi dall'altro che a Bologna noi rigiochiamo la partita mentre la Roma per una cosa molto meno grave non la rigioca la partita hai capito che se ti strizzano a pelli ci si fa il minestrone ci si condisce l'insalata ma di cosa ragioni te te dovresti stare muto ma di cosa stai ragionando chiudiamo il video poi perché c'è un grandissimo quesito che ormai mi pongo che che vi state ponendo tutti voi ma una squadra che che gioca 80 minuti nella propria area che è la Juventus no cioè che l'Inter in una partita ha fatto i gol che la Juventus ha fatto in tutti i giorni d'andata delle ultime tre partite l'Inter ha fatto più gol di tutto i giorni d'andata della Juventus ma il quesito è riusciranno a dargli un rigore contro da qui alla fine del campionato ai pugile gliela tolgano la licenza da pugile o ti faranno fare ancora MMA quello lì invece di giocare a calcio lì riusciranno ad avere un rigore contro secondo voi da qui alla fine del campionato vi lascio a voi la risposta ciao Inter